Ciao a tutti ragazzi! Ciao, ciao! Mi scusi in anticipo perché questo è il primo video sul canale in cui faccio vedere la mia faccia e per di più con una qualità suono e video di me ma devo farvi vedere come spendo i miei soldi e no, non li ho spesi per attrazzatura per fare video decenti ma... SPACCHETTAMENTI Non un altro canale di spacchettamenti, ti prego, Andy, ti prego Silenzio Insomma, vediamo cosa c'è in questo pacchetto Vediamo cosa c'è qua dentro Vediamo se non riesco a... Non interessa della bustina, no? Cosa? Queste carte? Ebbene sì ragazzi, scusate per questa pagliacciata E comunque sì, questo video voleva soltanto presentarvi una serie di carte in arrivo E queste carte sono le carte di Pokémon Millennium Perché è nata questa cosa? Non lo so, mi annoiavo Si tratta di carte completamente gratuite Non verranno vendute ovviamente, non sono fan delle manette Saranno soltanto qualcosa che potrete trovare molto probabilmente alle fiere E la prima non poteva altro che essere quella di Giovannone Per ora ci sono meno di 100 pezzi di Giovannone Dato che alcuni voglio tenerli per me E possibilmente verranno stampate altre carte Con diversi personaggi che noi ben conosciamo E abbiamo tutta la libertà Sono le nostre carte Le carte della community che un po' ci circonda Il mondo dei Pokémon Francesco, Chiara Il buon Pardini E possiamo fare quello che vogliamo ragazzi Non so se effettivamente verranno fatte altre carte Però se vi piace l'idea Fatemelo sapere Ci potrei pensare sopra Oppure farvi sapere Come è possibile farne altre Quindi vi ricordo Se questa idea vi piace Iscrivetevi al canale Mettete mi piace a questo video Condividetelo E vediamo di fare qualcosa di figo Quindi non so che altro dire ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao